Alberto tu hai disegnato numerose barche diciamo che stavano in uno stream di tecnologia velocità anche del nero che in qualche modo simboleggia comunque per me un po' di aggressione da qualche parte ecco questo mood è ancora presente nel mercato dal tuo punto di vista? Sì io vedo non divisione nel mercato forse non è il termine esatto vedo che i marchi presentano sempre più prodotti più tradizionali guardavo Swan che diciamo fa una linea estremamente tradizionale e dall'altra parte accompagna con prodotti estremamente aggressivi e probabilmente molto più avanti di quanto io stesso non avessi potuto immaginare probabilmente la strada tracciata poi non da me ma se vuoi da Bassani con Wall-E c'è questo performance yacht Sailing yacht che è andato tantissimo per vent'anni ha aperto una breccia ma poi dopo all'interno di questo settore probabilmente vediamo adesso una divisione verso cose realmente tecnologiche il foil e cose forse più tradizionali sia di volumi che di tecnologia e tu credi un pochino tanto al foil? bisogna credere al foil ahimè bisogna credere al foil bisogna credere al foil perché non è immaginabile noi operatori del settore dobbiamo creare la base perché si creda al foil questo da un punto di vista cioè tu pensi che possa portare davvero un progresso nella navigazione parliamo di crociera e non magari di... questo non lo so c'è il problema del rapporto peso potenza ovviamente no? che non so se sia raggiungibile con le barche a vere noi abbiamo fatto barche leggere ma più di tanto comunque non si riesce se l'armatore vuole comunque avere dei minimi confort a bordo in cui attualmente la potenza disponibile è aumentata in maniera esponenziale grazie ai nuovi materiali il rapporto peso potenza ha consentito di staccarsi nessuno ha inventato nulla di nuovo è la tecnologia che ha consentito di ripescare l'aliscafo e di applicarlo alla barca a vela se vuoi no? ci sono degli esempi di barche sui foil credo negli anni 50 qualcosa del genere già però era difficile tenerle in piedi ora invece noi possiamo realizzare barche che ci consentano di volare senti torniamo un po' a un discorso più tra virgolette tradizionale le abitudini degli armatori che tu hai conosciuto stanno cambiando oppure il filone regata crociera il filone mediterraneo è sempre solido? io vedo che quello che prima era considerato una barca regata crociera adesso è una barca crociera con qualche regata la stessa barca ci si sta rendendo conto che è bello andare su una barca a vela e non su una barca con la vela anche perché il livello tecnico degli armatori di noi diciamo di chi va per mare cresce quello che noi facevamo in regata 30 anni fa adesso normalmente in crociera c'è la vela di carbonio c'è lo scottami in Dyneema, in Vectran se tu dovessi tracciare un futuro o dire vorrei disegnare questa barca senza tanti vincoli di mercato o di armatore dove andresti? la barca Spider no, è una provocazione la visione che ho è la riduzione e l'ottimizzazione delle funzioni degli spazi la riduzione a questo punto anche delle dimensioni ci sono alcune cose che a bordo secondo me sono ridonnanti il cui numero andrà a contrarsi l'ottica dell'ottimizzazione c'è stata una fase in cui le barche sono state ridonnanti per legnami, per finiture, per pelli adesso nel lotto e nel solco del Minimal parte col Minimal ma secondo me si asciuga ancora di più e si va all'essenza dello Yacht che torna a dire quello di andare in barca a vela con comfort moderno grazie a tutti